Quello che ho appena finito di installare è il super portacanne di Sardamatic, un bellissimo portacanne realizzato totalmente in acciaio inox IC316 che a me piace moltissimo per la sua solidità e la sua semplicità costruttiva. Andiamo a vedere come è fatto. Si compone di due pezzi smontabili, la piastra in acciaio inox che viene inserita e montata solitamente nel trincarino e il portacanne è vero e proprio. Come dicevamo prima è straordinariamente solito, robusto e io lo definirei un pezzo di artigianato industriale perché la realizzazione è effettuata oltre che con materiale di qualità, con macchine estremamente sofisticate a conteggio numerico, ma la rifinitura e soprattutto la lucidatura del prodotto è fatta a mano. Perché mi soffermo sulla lucidatura a mano dell'acciaio inossidabile? Perché la lucidatura a mano fatta con specifiche spazzole e delle paste particolari assicura al prodotto, al pezzo finito, una brillantezza e una resistenza all'ossidazione molto maggiore perché con una lucidatura meccanica fatta per bene la parte inossidabile dell'acciaio affiora in superficie e protegge il pezzo dalle aggressioni dell'atmosfera salina. Allora vediamo adesso come si adopera e come si monta. Prima di inserire il portacanne nel suo alloggio e farvi vedere come funziona, vi voglio far notare questo particolare, vi voglio far notare anche la costruzione interna che è sempre tutta in acciaio inossidabile ed è sempre con la massima accuratezza. Però vi voglio far notare questo anello in nylon che è inserito qui nella canna del portacanne. Questo anello oltre che a proteggere la crociera della canna su cui si appoggia, ha una particolarità, riesce a far ruotare la canna sul suo asse per poterla orientare nella migliore maniera possibile in pesca. Adesso vi farò vedere ed è una particolarità assolutamente interessante di questo prodotto. Allora inseriamolo nella sua postazione. Come vedete questo pezzo di acciaio molto robusto che è un pezzo tutto unico tornito, ha un riscontro che ci servirà per far entrare il portacanne nella sua sede. Il primo scatto ci consentirà di far ruotare il prodotto a 360 gradi. Dopodiché praticeremo il secondo scatto e entreremo nella funzionalità di uso comune che consente al portacanne di ruotare sul suo asse posizionandosi semplicemente senza nessun meccanismo, senza nessuna molla, nessun bottone da spingere in ben dieci posizioni. Oltretutto il tubo portacanne riesce a basculare con una grandissima escursione la cui battuta è regolata da questo semplicissimo sistema che è un perno sempre in acciaio inox con un volantino che può essere posizionato dove più ci aggrada. Questo consente poi di avere in pesca l'orientamento dell'inquinazione che ci interessa della canna. Adesso vi faccio vedere la particolarità che vi ho spiegato prima sulla possibilità di far ruotare la canna sul suo asse. Vedete l'ampia escursione che ci può consentire anche di adoperare la canna in combattimento sia con prede di grossa taglia che nel caso dell'uso del volantino di profondità dove tutto il meccanismo è piuttosto pesante che quindi conviene aiutarci adoperando questo punto di leva. Ma torniamo al discorso della rotazione. Con poca forza io posso orientare la mia canna nel senso di pesca. Quindi ecco qui che pur mantenendo tutta la solidità e la rigidità necessaria io avrò orientato la canna facendo sì che la sua flessione sia esattamente nel senso di pesca. Questa frizione scorre a 360 gradi. Allora questo ritengo che sia un prodotto assolutamente da consigliare perché poi in realtà è la semplicità e l'efficienza di funzionamento che pagano nel tempo e questo è un prodotto che sicuramente con poca manutenzione ed una spesa assolutamente contenuta potrà essere con noi per tantissimo tempo. Un ottimo prodotto come tutti i prodotti di casa Sardomatic.